Il taglio del nastro finalmente ci sarà. Sarà un'inaugurazione parziale, ma lo svincolo di Giostra aprirà al transito delle auto. L'evento è fissato per il 15 maggio e dovrebbe essere presente il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi. Sarà il giorno nel quale la politica preferirà vedere e far vedere il bicchiere mezzo pieno. L'apertura dello svincolo sarà sbandierata come un successo. In realtà non solo, l'inaugurazione arriva 16 anni dopo la pose della prima pietra, ma sarà solo per i raccordi che dal Viale Giostra raggiungono la A20. Via Libera dunque in direzione sud. Nel senso opposto, l'ultima uscita per Messina rimarrà quella di Viale Boccetta. Per il momento sarà il risultato di un impegno finanziario da 122 miliardi di lire, risalente a lontano 1990. La svolta che porterà tra pochi giorni all'inaugurazione, sebbene parziale degli svincoli, si deve comunque all'ex sindaco Giuseppe Buzanca, che ha accorso anche il rischio di sforare il patto di stabilità pur di far procedere i lavori nei cantieri. Il primo traguardo fu l'inaugurazione, il 21 dicembre 2010, della Galleria Giostra Annunziata, presente l'ex ministro Altero Matteoli. Adesso, con un nuovo ministro e con il commissario Luigi Croce alla guida del Comune, ad un mese dalle elezioni amministrative è in arrivo la nuova inaugurazione, con la quale ha inizio la conta dei mesi per arrivare all'apertura degli svincoli che dall'autostrada conducono al Viale Giostra. Grazie a tutti.